Benvenuti e bentornati sul mio canale e in un video, vlog, piccola guida e anche un mini book haul perché sì, dove vado? Compro libri Di che parliamo oggi? Oggi parliamo di Venezia e di altre isole intorno a Venezia perché sono stata qualche weekend fa e mi andava di raccontarvi la mia esperienza dove ho mangiato, che cosa ho visto, una sorta di mini guida visto che c'è sempre il tema culturale e anche il viaggio e cultura e tra l'altro oggi vi parlerò di una cosa che finisce il 14 giugno ma che almeno vi faccio conoscere Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e andare a vedere magari qualcun altro dei miei video molto più montati in cui mi attraverso e faccio cose sceme Vi lascio qui su la mia playlist strana in cui vi parlo di opera lirica e libri oltre che libri in generale e anche letteratura scientifica e lo faccio usando le mie personalità multiple Quindi qui su trovate la playlist del mix Poi giù nei commenti non vedo l'ora di chiacchierare con voi e sapere se siete stati a Venezia, se avete visto i luoghi di cui sto per parlarvi e se mi sono persa qualcosa di davvero incredibile Tanto per rosicare, perché non penso che riuscirò a tornare a Venezia a breve Io c'ero già stata quando ero molto piccola Avevo, mi sembra, otto anni, quindi vent'anni fa Proprio due giorni E non mi ricordavo tantissime cose Tante sono qui proprio per dirvele perché avrei voluto che qualcuno mi avvertisse La prima, in assoluto, è che è piena di scale Piena, non un po' Piena di scale Ogni singolo ponticello per ogni canale Per ogni canale grande, per ogni passaggio È a scale E questo è sfiancante Perché anche se non fai troppa strada Comunque ti stanchi E l'altra cosa è, ragazzi, Venezia è grande Cioè io me la ricordavo piccolissima Perché ero piccola io e magari non giravamo troppo O usavamo tantissimi battelli Mentre no, Venezia non è piccola per niente E c'ha varie isole da visitare Prima di tutto vi dico Fate i biglietti giornalieri E fateli a più di un giorno anche Perché una corsa sola costa 7,50 euro al momento Siamo nel 2022 Giusto? Sì? Ok Nel 2022 una corsa da 75 minuti costa 7,50 euro Il fatto è che 75 minuti non sono così tanti come uno potrebbe pensare Perché non è un autobus E quando ci si muove sull'acqua è un po' più complicato Quindi fate 24, 48, 72 ore Che in progressione dovrebbero essere 21, 30 e 40 euro Perché conviene Conviene Noi abbiamo sbagliato Abbiamo preso prima quello da 7,50 per andare in albergo Perché l'albergo era in centro La stazione è parecchio lontana dal centro Il nostro albergo era a 4,50 km dietro al castello Quindi abbiamo preso il vaporetto Che era quello più veloce Ci sono due tipi Quelli effettivamente veloci Che non sono per niente turistici E sono 5,1 o 5,2 a seconda delle direzioni Stessa cosa per il 4,1 e 4,2 Che se non sbaglio sono quelli che arrivano anche a Morano E poi ci sono quelli panoramici Che sono l'1 e il 2 Che se avete il biglietto giornaliero Vi consiglio di fare Perché vi fate tutto il canale grande Tranquilli, belli, comodi Vi fate le fotine Soprattutto perché il canale grande Non ha la zona pedonale Quindi ne potete vedere in pezzetto Se camminate a piedi Senza il vaporetto Non potete fare nulla Ora Che cosa abbiamo visto il primo giorno? Allora Il primo giorno Siamo come vi ho detto Arrivati in albergo Abbiamo lasciato le cose E stavamo nella zona del castello Da lì a piedi Abbiamo fatto il passaggio Quello più grande Quello proprio Scriverò qui il nome della via I botti Sono solo a casa ma c'è stato un botto Vabbè Dicevo Abbiamo fatto il viale più grande Che vi lascio qui sopra Che ora non mi viene proprio il nome E vi voglio parlare Della prima cosa meno turistica Che è quella che vi dicevo prima Che finirà il 14 giugno Ed è la mostra di Bruno Catalano E in particolare L'opera che si chiama Pierre David Triptych Le opere di Catalano Sono sparse per Venezia Purtroppo non le ho viste tutte C'era un negozio Ce n'era un'altra In piazza San Marco Ma quella che mi ha proprio sconvolta È questo Pierre David Triptych L'insieme di tutte le statue Di questo artista Che si trovano al momento a Venezia Sono chiamate I viaggiatori Però in francese Non ho un'ottima pronuncia Quindi ve la dico così I viaggiatori Sono statue in bronzo E quella che abbiamo visto per prima Appunto quella del trittico È alta 3 metri Ed è incredibile Soprattutto il fatto che le statue Siano lacerate Dalla parte del petto E quindi non ci sia il corpo effettivo Da un senso di vuoto interno Mi ha emozionata tantissimo Poi soltanto una volta tornata a Roma Mi sono anche documentata E intanto vi racconto di Catalano Catalano è nato in Marocco Nel 1960 E nel 75 È stato costretto all'esilio Con la propria famiglia Da quel momento vivrà a Marsiglia A 18 anni Diventa un marinaio Successivamente Diviene elettricista Solo a 30 anni Incontra l'arte La scultura E fa queste opere Sempre più grandi In argilla e bronzo Principalmente Che cosa va a testimoniare? Allora Lui vuole Mostrare come tutte le nostre vite Siano un viaggio E quindi siamo tutti viaggiatori Ma si nota dall'ansia Che trasmettono queste incredibili sculture Che non si riesce neanche a capire bene Come facciano a rimanere in piedi Il distacco da un luogo Quindi ovviamente Il suo esilio è molto presente Come significato Mi sono segnata anche Proprio l'analisi Che ora vi leggerò direttamente E dice Nella sua opera E qui parla di tutti i suoi viaggiatori Uomini e queste donne Che evoca la cicatrice della partenza E della separazione Le identità frammentate dalle difficoltà E le zone d'ombra Dell'immagine di loro stessi Questo è il sito Ravagnan Gallery Che vi lascerò giù in descrizione Come tutte le cose che vi citerò oggi Comunque Straordinario Se le sposteranno in qualche museo Vi consiglio di andarle a vedere Dopodiché ovviamente siamo arrivati a San Marco Solite foto da turisti Purtroppo io volevo vedere la cattedrale La basilica di San Marco Ma stavano a fare i lavori C'era una fila allucinante Ed era la prima volta Venezia per il mio compagno Quindi ho detto Ehi Non possiamo aspettare tutto il giorno In fila Anche perché già era pomeriggio E abbiamo continuato a camminare Ovviamente c'è l'orologio C'è la piazza che è meravigliosa Poi abbiamo continuato a camminare E siamo arrivati In piazza Sant'Angelo In piazza Manin Ma ciò che cercavo di vedere Era la torre Quella tutta a spirale La torre Contarini È introvabile È introvabile È una cosa mostruosa Incredibile Sono una persona che ama orientarsi Che ama le cartine Che se fa una strada Se la ricorda Venezia è impossibile A parte che non tutte le strade Sono collegate Quindi spesso prendi un vicolo E ti ritrovi nell'acqua O nel nulla O in un vicolo cieco È tutta un vicolo cieco O finire nell'acqua Quindi fate attenzione Google Maps non funziona quasi mai Perché i vicoli sono troppo vicini tra loro E quindi ti dice sempre Che sta da una parte o l'altra Quindi è tutto a fortuna E ci vuole un'incredibile fortuna Io avevo la cartina Ma la cartina era in italiano I vicoli avevano un nome in Veneto Basita F4 Io non lo so come l'abbiamo trovata Ma alla fine ci siamo resi a Google Maps Ci ha sbagliato 3-4 volte la strada Ma alla fine siamo riuscite ad arrivare Alla Torre Contarini Mi raccomando Metteteci tanta pazienza Perché è difficile da trovare Tra i piccoletti Però è molto molto bella Dopodiché Dovevamo andare a Rialto A vedere il ponte di Rialto Perché è famosissimo Perché è l'altro punto di interesse fondamentale Ma per arrivarci È stato un parto A parte che io la pensavo molto più vicino a San Marco Tipo all'inizio del Canal Grande Invece è proprio dentro la città Ma come vi dicevo Se uno va a tentativi Dice no vabbè ma in linea d'aria è lì Fantastico Vado in quella direzione Comunque si ritrova in un canale senza uscita O in un piccolo cieco Quindi abbiamo camminato probabilmente il quadruplo di quello che serviva Abbiamo fatto 15.000 passi in tre ore Distruttivo Distruttivo Comunque bellissimo Straordinario Rialto Avremmo dovuto fare il biglietto giornaliero Così da quel punto La potevamo tornare in albergo Ma invece non è andata così Visto che eravamo già stanchissimi e affamati Perché avevamo mangiato un paninetto in treno Io ho preso la mia lista delle osterie Delle cicchetterie E subito sono voluta andare al baccarofiore Da fiore Perché hanno il baccalà mantecato più buono che abbia mai mangiato Ho pure chiacchierato un po' con la signora Che è gentile e scorbutica allo stesso tempo Cioè ha un tono di voce molto perentorio E aggressivo potrebbe sembrare Però è stata davvero carina Mi ha detto un po' qualche trucchetto Con cui ho fatto quel baccalà meraviglioso E credo che proverò a rifarlo a casa sicuramente Te lo servono sulla polenta bianca grigliata Quindi ancora più particolare rispetto a un crostino Come fanno tanti altri E ve lo consiglio tantissimo Quindi sprizzettino e baccalà E abbiamo assaggiato anche una polpetta di carne Che loro fanno queste sorte di crocchette Aroma sono crocchette Poi lo chiamano polpette di patate e carne Patate, pesce, patate e verdure A quel punto non vi ho detto che continuava a piovere Perché ha piovuto tutto il giorno Quel giorno lì un po' agnagnarella Se dice a Roma Cioè era più gerillina Ma una volta usciti dal baccarofiore Era diluvio Quindi abbiamo dovuto comprare un ombrello Perché sì, siamo andati a Venezia senza ombrello Faceva così tanto caldo che potevamo anche bagnarci Il clima comunque lì è un po' pazzerello Quindi preparatevi Siamo riusciti a tornare in albergo E tornando abbiamo comprato un pan del doge Al pistacchio Buonissimo, buonissimo Che sarebbe una sorta di biscottone Con sopra le mandorle E quello che abbiamo comprato noi Sapeva di pasta di mandorle Ma pasta di mandorle al pistacchio Quindi delizioso, delizioso Lì di tipico hanno quasi solo biscotteria Da quel che ho potuto vedere E c'era quello Poi c'erano le esse di Burano Che sono dei biscotti a forma di esse Che andrebbero intinti nel vino E le bussole di Burano Hanno quasi lo stesso identico impasto delle esse Però sono fatte a ciambellina Buone, buone Stracolme di burro Cioè in pratica quelle sono uova, burro, zucchero, farina La così, biscotto con una palata di burro E ancora, una volta tornati indietro Poi la sera Volevamo mangiare in un locale vicino Perché eravamo già esausti Tra il viaggio e il treno Svegliarsi all'alba Camminare tantissimo Eccetera eccetera E abbiamo deciso di mangiare da Pasego Un'altra cicchetteria Abbiamo preso dei cicchetti E un tagliere Sempre baccalà ammantecato Insalata russa Più o meno le cose a un certo punto Iniziano ad assomigliarsi Però andava bene così Tranne Sepa Che ne parliamo più avanti Perché il giorno successivo I cicchetti li ho visti un po' tutti uguali Sono anche piuttosto economici Perché vanno dai 2 euro Ai 5 euro Quelli molto più sostanziosi Quindi se volete spendere poco per mangiare Quelli sono un'ottima soluzione Dopo aver mangiato Siamo andati a vedere il tramonto A Piazza San Marco Perché comunque è tramontato tardissimo Ma tra il nuvoloso La pioggia Le cose E avevamo sausti Siamo tornati presto Il giorno dopo Avevamo la colazione in albergo Che non era un granché Infatti non ho fatto nessuna foto Però Era gratis Abbiamo avuto quell'albergo lì Con la Smartbox Non posso dire di consigliarvelo Perché vi direi di trovarne uno Ancora più in centro Anche se era carino Visto che stava vicino Ai giardini della Biennale Che sono anche quelli molto belli Oltre ad essere in generale Un bel parco Ha anche un sacco di opere Visto che la Biennale È ancora in atto C'erano altre opere Di arte contemporanea Interessanti Che non ho Né fotografato Né altro Il secondo giorno Poi avevo in piano Di vedere altre isole Perché da ragazzina Mi ricordavo la magia Di vedere a Murano Creare il vetro E a Murano I colori sgargianti L'albergatore Ci ha detto anche Di andare a Torcello Quindi a quel punto Avendo fatto il giornaliero Abbiamo preso Il quattro punto qualcosa Se non sbaglio Siamo arrivati a Murano Da lì abbiamo preso Subito il vaporetto Per andare a Mora A Burano Perché è lontanissimo A Burano Ci vuole più di mezz'ora Di vaporetto Quindi vi consiglio Cioè almeno Noi abbiamo fatto così Ci siamo trovati molto bene Di andare a quella più lontana In assoluto E poi piano piano Tornare indietro Quindi prima di tutto Abbiamo visto Burano Abbiamo girato Già ormai era ora di pranzo Perché tra i vaporetti Ci hanno messo tantissimo Ad arrivare Una volta arrivati a Burano Ho visto la cittadina Ho fatto un po' di foto Anche se col sole a piccole foto Non mi sono venute Belle sgargianti Come erano i colori in realtà Da lì siamo andati a Torcello A Torcello Abbiamo visitato un po' L'isolotto Che è principalmente Di vegetazione E poi c'è una sorta Di piccolo borgo medievale Molto carino Non siamo entrati Nella chiesa Immagino che dentro Ci fossero dei mosaici Però non c'era Gran che tempo Ormai era tardi Abbiamo provato A mangiare lì E ci hanno cacciato Da quasi tutti i locali Perché erano pieni Anche se non c'era nessuno Boh Ma è andata bene così Perché siamo arrivati Al trono di Attila Dove abbiamo mangiato Una frittura Meravigliosa Allora non vi consiglio Gran che i primi Era una taverna Che faceva tanti coperti Quindi C'era cibo un po' riscaldato Abbiamo preso Una lasagna di mare Che aveva dei pezzi di pesce Molto buono Ed altri che erano Un po' di legno E gli gnocchetti Con gli scampi E la rucola Quelli erano molto più buoni Perché gli gnocchetti Si sentiva che erano fatti In casa Il sugo Però Essendo stato fatto In precedenza Ovviamente era Riscaldato Infatti non l'ho digerito Mentre la frittura Mista È stata una Rivelazione C'era La sogliola I gamberoni I gamberetti I pesciolini Quelli piccolini Il granchio La moeca Che sarebbe il granchio Che ha appena fatto la muta Quindi si può mangiare tutto I calamari Quindi Una frittura strepitosa Se passate là Prendetela Io avrei voluto Prendere l'anguilla Anche alla griglia Mi sono pentita Di aver preso il primo Invece dell'anguilla Avrei dovuto Ricapiterà Prima o poi Di andare in Veneto In generale Da lì Poi Belli Sazi e felici Siamo tornati a Burano Perché i mezzi C'è un mezzo Che fa soltanto Torcello Burano Avanti e indietro Siamo tornati a Burano Abbiamo fatto altre foto Altri giri Abbiamo valutato Se comprare cose Tipico di Burano E anche il pizzo Strepitoso Bellissimo Ma costoso da morire Perché giustamente Se una povera donna È stata all'app 200.000 ore A fare il pizzo Poi chi lo devi pagare Ergo Non abbiamo comprato niente E siamo tornati a Murano Lì a quanto pare Io mi ricordavo Però Ovviamente Era una bambina Non posso ricordarmi bene Ma Stiamo parlando di 20 anni fa Che Semplicemente Tu passavi Da una vetreria All'altra E c'erano quelli Che stavano facendo cose E li potevi osservare Non è più così Si paga un biglietto Che costa 6 euro Nella fornace In cui siamo andati noi Era anche una Delle uniche aperte Perché La maggior parte Degli spettacoli Li fanno fino alle 3 e mezza Del pomeriggio Ergo Forse Sarebbe stato meglio Vedere lo spettacolo E poi partire Però È andata bene così Perché Alla fine Abbiamo trovato Una fornace Che era molto vicina Alla zona Dove si prende Il vaporetto Per Venezia Abbiamo visto Lo spettacolo Del vetro Come ha fatto Il vaso Come ha fatto Il cavalluccio Non ho potuto Riprendere Purtroppo Però Consigliadissimo Dopodiché Abbiamo comprato Un paio Di cosine Di vetro E siamo ripartiti Per Venezia Poi tra l'altro C'era anche il teatro La Fenice Da vedere Abbiamo passeggiato Per Venezia Distruggendoci Ancora di più Siamo arrivati Fino A Rialto Se non sbaglio E da là Abbiamo preso Il vaporetto Che ci riportava In albergo Sempre perché Col 24 ore Puoi fare come ti pare E prendere tutti i batteri Che vuoi Tornati in albergo Doccia Cose Riusciti Siamo tornati in centro Col vaporetto Belli comodi La parola principale Che avremmo dovuto seguire Era comodi Invece Facendo solo 24 ore Non è andata proprio così Siamo tornati in centro Come vi dicevo E abbiamo mangiato All'osteria Sepa Un altro luogo Impossibile Da trovare Senza Google Maps L'avevo segnato sulla mappa Avevamo provato Ma ogni volta Sembrava che la mappa Fosse sempre al contrario Cioè Dici no Ok questa è la direzione No Aspetta No È quest'altra direzione Così Tutta la vacanza La fine Google Maps Ci ha portato Da Sepa Che è un'osteria Super nascosta Vicina al Rialto Squisita Squisita Ma ha un solo difetto Non vi potete sedere Solo in piedi si mangia Quindi se siete persone comode Prendete a portar via Sedetevi da qualche parte Perché se no È impossibile Abbiamo preso Un risotto agli scampi Il baccalà mantecato La rosa di cipolla Che è la cosa più buona Che abbia mai mangiato a Venezia Ed è una pasta sfoglia Con sopra una cipolla Cotta caramellata E sopra Fiocchi di sale Deliziosa Poi la polenta Col baccalà mantecato La polenta con La seppiolina Tutto squisito Tutto squisito Che lascio le foto E ovviamente Giù in descrizione Vi metto il nome Di tutti i luoghi Dove abbiamo mangiato Torniamo In piazza San Marco Perché Volevamo vederla Bene col buio Visto che il giorno prima Siamo andati via Che c'era ancora un po' di luce Abbiamo girato Venezia Il ponte di Rialto Di notte Tutte cose belle Cose belle Camminare anche a casaccio È stupendo Poi da Rialto Abbiamo ripreso Sempre il vaporetto Per tornare in albergo E ora Veniamo All'ultimo giorno L'ultimo giorno Avevamo il treno In pomeriggio E quindi Dovevamo mangiare E vedere qualche altra cosa E io Sono Una book influencer E che potevo Non andare alla libreria Acqua Alta La mattina È davvero iniziata Un po' strana Abbiamo fatto i vagagli Ci ha detto L'albergatore Che li potevamo lasciare lì Perché Quando gli ho detto Che andavamo Alla libreria Acqua Alta Ha detto Ma è vicina Non vi preoccupate Poi mi ha detto Eh però È una roba turistica E quindi Mi aveva ucciso Un po' dentro Cioè è soltanto Una roba per i turisti No Non è vero Non è vero Ve lo dico io Ovviamente Se entrate solo a fare La foto sulla scala Dei libri È ovvio Che è da turisti Ma io sono andata A comprare i libri Premesso che È una sorta di deposito Principalmente Ci sono quasi soltanto I libri su Venezia C'hanno pure la parte Di libri usati E la parte Di libri nuovi Quindi È una libreria Io sono andata A comprare i libri Infatti Ho comprato libri Inizierei Da Due di Alan Bennett Che ho comprato usati Che avevo Sempre voluto questo Ma Mi sembrava costasse troppo Per Il numero di pagine Infatti L'ho preso a 3 euro Il costo Dove essere Di 5,59 Per il genere Ed è Una visita guidata Di Alan Bennett In cui Ci fa una sorta Di visita Privata Rapidina Della National Gallery Di Londra Io ho amato Immensamente Quella mostra Quel museo Perché mi ricordo Che quando siamo andati A Londra La seconda volta Con la mia famiglia Ogni volta Che andavamo in centro Ci entravamo Perché la National Gallery È gratuita E dentro c'è di tutto C'è Van Gogh C'è il puntinismo C'è C'è di tutto Caravaggio È un grande gesto Di umanità Secondo me E di dignità Per la propria nazione Avere i musei Di quella portata Gratuiti Ergo Non vedevo l'ora Di prenderlo E Il vizio dell'arte Di Alan Bennett Che è una Sceneggiatura Un copione teatrale Che ho pagato 6 euro Da mi sembra 8 che sia Il prezzo di partenza Non vedo l'ora Di leggerli Perché come vi ho detto Io di Alan Bennett Ho letto Nudi e crudi Di cui vi ho parlato Anche negli Allerle di E la sovrana lettrice E l'ho adorato Poi Ho trovato Un calvino Che non ho letto E che non avevo in casa Il castello Dei destini incrociati Era un po' Che lo cercavo Anche perché Mi piacevano I disegni Che c'erano all'interno E Tra l'altro Ho fatto arrampicare Libraio In alto In alto In alto Per prenderlo Abbiamo comprato Anche una stampa Per casa Vari segnalibri Che poi magari Vi farò vedere Negli all'alunio E Sono soddisfatta Del mio bottino Ovviamente Dentro a tutti i libri Mi sono scritta Appenna Comprato A giugno del 2022 Alla libreria Acqua Alta Di Venezia Perché Lo voglio ricordare Che questi libri Vengono da lì Vi ricordo di Calvino Il mio video Un po' di Calvino In cui vi faccio Parlare con la professoressa Alla fine Della vita di Calvino Di tutto ciò che ho letto Vi divido tutto Anche in livelli Di difficoltà Così se volete Leggere qualcosa Di un po' più semplice Potete farlo Ma buongiorno Ma si dorme Tra le cartoline Allora Ma che cosa Altro abbiamo fatto Abbiamo mangiato Ovviamente Dovevamo arrivare Fino alla stazione Con le valigie Perché poi Ne abbiamo recuperate Dopo la libreria Acqua alta E per arrivare fino a là Volevamo il vaporetto C'era una manifestazione Di canottieri Parte del salone nautico Manifestazioni Era tutto bloccato Siamo riusciti Per miracolo A trovare Un vaporetto Che arrivasse Stazione Cioè vicino alla stazione Da là Abbiamo fatto una passeggiata E siamo andati Stavolta Nella parte Di ghetto Effettivo Perché Avevamo un locale Dove mangiare Che ci aveva consigliato Un'amica Che ha vissuto A Venezia Quando faceva L'università Lì Il locale Si chiama Timon Al Timon Fanno solo carne Anche cicchetti E soprattutto Solo vino Si beve Non si bevono Cocktail Spritz E cose varie Quindi è un'enoteca Che fa anche Carne Abbiamo preso Un meraviglioso Panicolo Alla griglia Che è il diaframma Della mucca Che è un pezzo strepitoso Che ho scoperto In Umbria Vi consiglio di provarlo Non è un interiore È praticamente Un muscolo Tenerissimo Buono Da morire Abbiamo preso Anche un po' Di cicchetti Perché non sapevamo Che la grigliata Sarebbe stata Così in mezzo Però è andata bene Così Abbiamo passeggiato I vicoli del ghetto Sono bellissimi C'era anche un'artista Meravigliosa In un vicolino In un vicolino Tutti i treni Dovevano arrivare a Tiburtina Per fortuna Noi dovevamo arrivare a Tiburtina Invece che a Termini Siamo stati Fermi sulle rotaie Per più di mezz'ora di ritardo Una cosa estenuante Estenuante Però Però è andato tutto bene Cioè È stato un viaggio strepitoso Ho comprato dei libri Ho visto luoghi stupendi Vi consiglio Venezia Sono stata felice Di aver usato La Smartbox E vi consiglio di usarla In posti così Perché Venezia È infinitamente cara Ora Non so per quanto ho parlato Le immagini come le ha messe La Sara del montaggio Io vi chiedo Come al solito Di iscrivervi al canale Attivare la campanella Parlarmi giù nei commenti Impressioni Del percorso che abbiamo seguito Di cose che abbiamo mangiato Le vostre esperienze a Venezia Io sono sempre curiosa Di leggervi E rispondere a tutti quanti E ora Non mi rimane Che augurarvi Buona lettura Perché comunque Ho preso dei libri E buon viaggio In generale Che auguri Le Inte Che auguri Che auguri Che augur Che auguri Che auguri Grazie a tutti.